Oggi parleremo di Sant'Arrangeli Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi abbiamo un bel nuovo unboxing. Prima di cominciare vorrei farvi rivedere questo oggettino che avevo unboxato e ne avevo parlato qualche tempo fa in un video diciamo semiserio, abbastanza ironico, che avevo intitolato per l'occasione Sant'Arrangeli. Chi deve girare video per YouTube per fare recensioni e simili occorre non soltanto avere la prospettiva visuale frontale in questo momento, la telecamera punta delitto, ma anche avere la visuale dall'alto. E avevo presentato questo oggettino per far vedere come il povero YouTuber come me si ricorre a questo tipo di oggetti perché ovviamente allestire un attrezzato studio di ripresa ovviamente ha dei costi, richiede degli spazi adatti e quindi non tutti abbiamo la possibilità almeno al momento di poter ottemperare a questo tipo di ambiente e quindi ci si arrangia come si può. E questo era il Sant'Arrangeli dell'epoca. Allora nell'unboxing di oggi andremo a vedere un oggettino che praticamente è strettamente collegato a questo, però quando lo vedrete direte ma non preoccupatevi perché una volta visto l'oggetto credo che sarà abbastanza palese e comprensibile l'utilità intrinseca per quanto riguarda la fattibilità di riprese dall'alto. L'altro oggetto invece vediamo, cominciamo con il nostro unboxing. Tra l'altro questo pacco arriva da Amazon, il nostro carissimo Amazon, ed essendo un pacco di carta credo che in teoria forse non dovrebbe servire la mia consueta arma. Facciamo questo unboxing e rimuoviamo, rompiamo le scatole, anzi rompiamo la carta. Mi sa che qua forse fa veramente un gran chiasso questa carta. Allora qui abbiamo il nostro primo oggetto che poi ri-unboxeremo ulteriormente e lo lasciamo lì. Su Amazon ho trovato questo oggettino qua che poi descriveremo. Ed ora udiamo il gran rumore della carta che come consueto, a me piace fare, farà il volo dell'oca. Li facciamo fare il volo? E vai! Si è sentito anche il botto. Questo al momento lo mettiamo da parte e prendiamo questo. Che cos'è? Guardate bene, è un'asta microfonica. Allora va bene, io sono anche un musicista, quindi l'asta microfonica mi torna utile per attaccare il microfono in pratica e se volessi effettuare delle registrazioni anche per montaggi video, anche per parti musicali, quello che sia, l'asta microfonica fa al caso giusto. Allora l'asta microfonica adesso io qua dovrei aprire. Bello! Oh! Molto carina, molto carina. Allora di che marca hai questa stessa microfonica? È un nome strano, Kahaya. Il modello è CY0239 Microphone Stand. E qui dall'illustrazione si capisce già come dovrebbe funzionare. Mi sto stupendo di vedere persino anche la borsa contenitore. Molto bello, materiale, va bene, il classico materiale plastico. Possiamo anche aprire. E qui abbiamo tutti i nostri pezzi per il montaggio della nostra asta microfonica. Cominciamo con questo. Cominciamo, prendiamo anche, tiriamo fuori questi. Ecco qua. Bisogna dire che davvero un package fatto con cura, fatto molto bene. Qui abbiamo quindi la nostra borsa che possiamo anche al momento riporre qui. Dovrebbe esserci anche un pezzo di carta con delle più o meno istruzioni che ci dice come montare il tutto. Ok. Ovviamente in questo momento io non sto facendo riprese dall'alto perché il brutto serpente, così come ho chiamato questo oggetto, si trova qua. E vorrei fare quello che è il mio progetto, cioè quello di montare l'asta microfonica e fissare questo portacellulare nell'estremità superiore, nella parte dell'asta microfonica dove si mette il microfono, e appoggiare questo in modo da poter avere una sistemazione stabile, esterna al tavolo di appoggio, quindi praticamente un supporto che non dondola, che non si muove e che posso, diciamo, regolare anche in altezza e in direzionalità. Vogliamo montare questa asta microfonica? Bene. Cinese. Grazie a tutti. 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 Allora, Grazie a tutti. 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 Certo. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. la posizione. collegati. Bene, io vi ringrazio.